Musica Grande raccolta firme davanti alla RAI di Saxalubra La sinistra unita tutta, dalla FDS di Pietro, dalla Cigella a Seri Musica Ha raccolto le firme per 5 diversi referendum Contratti nazionali di lavoro, articolo 18, pensioni, abolizione della diaria dei parlamentari e per il reddito minimo garantito Musica Sono state più di 170 le firme raccolte per ogni modulo Un grande risultato è che rilancia la proposta unitaria avanzata dalla piattaforma che ha lanciato il referendum La partecipazione e la discussione davanti ai cancelli della RAI è stata ottima Tanti lavoratori hanno dimostrato il loro scontento e la loro indignazione verso il governo Monti e i suoi alleati La strada da fare è ancora lunga Ma possiamo bene dire che la sinistra si gioca con questo referendum La vittoria o la sconfitta alle prossime elezioni Musica